Ciao a tutti e bentornati su smartworld.it. Oggi, il giorno in cui sto registrando questo video, è martedì 1 dicembre, mancano ancora 24 giorni al Natale, ma io sono coperto di pacchi che sto per andare a spacchettare. E se ci seguite da tempo e conoscete le nostre rubriche, avete già capito che questa è una nuova puntata del Trincetto, ossia la nostra rubrica in cui andiamo a fare l'unboxing dei prodotti che poi andremo a recensire nelle settimane successive. Per prima cosa direi di fare posto qui sul tavolo e poi sigla e iniziamo. Eccoci qui, partiamo subito con questo pacco che mi invia il buon Emanuele da Firenze. Per chi mi conosce sa che io mi occupo principalmente di prodotti audio, infatti in questo unboxing vedremo unicamente speaker, cuffie e così via. Ma un sacco di roba interessante che aspettavo di provare da tanto tempo. Per onestà, per doveri di cronaca, vi dico che alcuni pacchi in realtà li avevo già aperti e che poi per un problema tecnico ho dovuto riprendere dall'inizio. Quindi se vedete qualcosa di già aperto sappiate che per questo motivo, ahimè. Andiamo ad aprire questo pacco di Emanuele che mi manda non uno, non due, ma ben tre auricolari da provare. Partiamo con quelli che sinceramente mi incuriosiscono di più, non perché siano i migliori ma perché sono quelli che davvero voglio provare al più presto, che sono i OnePlus Buds Z. Perché li voglio provare? Perché costano solo 59€ e perché i precedenti OnePlus Buds erano davvero davvero ottimi. La differenza principale tra i due modelli, tra quello che avevamo già visto tra questa nuova variante Z è che mentre il primo modello di OnePlus Buds era caratterizzato da un design più aperto, quindi che lasciava passare i rumori esterni e che non occludeva il canale di tipo. In questo caso abbiamo i gommini che quindi gli danno un form factor più i near, che è sicuramente una cosa più comune del mercato che potrebbe non piacere a tanti ma che sinceramente piace a me. Quindi sono molto contento di provarli. La custodia di ricarica è abbastanza piccola, sul retro il connettore USB-C e un tasto per forzare l'accoppiamento Bluetooth. Sul fronte un LED che ci indica lo stato della ricarica. Leggo un po' di specifiche dalla scatola. Abbiamo 20 ore di autonomia, resistenza ad acqua e sudore, quindi immagino un qualche tipo di certificazione IP e la tecnologia Bass Boost che sarà sicuramente un qualche tipo di strumento per pompare un po' i bassi. Vediamo cos'altro c'è all'interno della confezione, anche se non mi aspetto nient'altro che è un po' di manualistica e poi appunto cavetto USB-C, USB standard per la ricarica e due coppie di gommini aggiuntivi che fanno tre con quelli applicati di default. Quindi dotazione assolutamente standard ma quello che ci interessa di queste cuffie è come suonano considerando che costano solo 59 euro. Credo che in un primo momento saranno disponibili solo sul sito di OnePlus. In ogni caso vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, quindi che ci siano su Amazon o solo su OnePlus, il link lo trovate qui sotto nella descrizione. E già che vi trovate a guardare la descrizione o comunque già che l'ho nominata, non dimenticate anche di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, fateci sapere nei commenti qui sotto se vi interessa qualcuno di questi prodotti o anche che auricolari preferite o quali modelli avete. Insomma ditemi un po' qual è il vostro rapporto con i prodotti audio. Sono sempre molto interessato anche per capire poi dove far andare le nostre recensioni, quali prodotti chiedere in prova e così via. Ditemelo nei commenti qui sotto. Passiamo al secondo modello di auricolari True Wireless che si trovavano nella scatola che mi ha inviato Emanuele che sono le nuove auricolari di Vivo. Si chiamano Vivo TWS Earphone Neo, dove TWS sta ovviamente per True Wireless, nome diciamo senza troppa fantasia, ma andiamo subito a... ce l'ho fatta. Dicevo andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Molto molto carina questo case per la ricarica con le finiture di due colori sostanzialmente. Vediamo se riesco a sfilarlo. Eccolo qui. Davvero molto molto bello, mi piace parecchio. Mi ricorda un po' il case di Airpods, ma un po' più zarro con queste finiture che vanno dal nero all'azzurro chiaro. Trattiene tantissimo le impronte. Sulla parte frontale un tasto per forzare l'accoppiamento Bluetooth, mentre gli auricolari, come potete vedere, non hanno gommini, quindi hanno un design un po' più aperto in stile Airpods. Stile Airpods che ormai non vuol dire niente, però insomma ci siamo capiti. I materiali mi sembrano davvero molto buoni. In generale tutta la finitura lucida mi sembra parecchio ricercata. Andiamo a vedere cos'altro c'è nella scatola. Anche in questo caso mi aspetto semplicemente manualistica per l'appunto e un cavetto USB-USB-C per la ricarica. Prima di riporle nella loro confezione e di metter via la scatola, vado a dirvi un po' di altre specifiche di questi auricolari che spiccano perché hanno tecnologia Bluetooth 5.2 e supportano il codec aptX adaptive, che è una gran cosa perché questi codec di Qualcomm sono secondo me i migliori tra i codec commerciali perché ci permettono di avere un audio in alta definizione, ma allo stesso tempo una latenza azzerata. Insomma questi codec sostanzialmente adattano un po' tra bitrate e latenza per ottenere un risultato ottimale. Quindi davvero un'ottima cosa a vederli su questi auricolari che hanno un driver di 14,2 mm. In ogni caso quello che c'è da dire è che questi auricolari che sono di fascia elevata diciamo che hanno il loro prezzo perché dovrebbero essere se non ricordo male in esclusiva da Euronics al prezzo di 129 euro che non è tantissimo considerando tutte le specifiche tecniche di cui abbiamo detto finora ma sicuramente non è neanche poco considerando le tantissime alternative che ci sono sul mercato. Vediamo se Vivo con il suo debutto di auricolari True Wireless in Italia riesce a stupirci. Mettiamo via anche questo e passiamo agli altri auricolari di Vivo il cui nome Vivo Wireless Sport Earphone ci suggerisce subito che si tratta di auricolari orientati per lo sport, per la corsa o comunque in generale per l'allenamento. Andiamo a tirarli fuori. Questi sono auricolari con archetto come potete vedere e devo dire che io sono sempre curioso e sempre contento di provare auricolari con archetto perché ormai praticamente non se ne vedono più quindi quando ci sono sono un po' una mosca bianca che ormai incuriosisce. Pensate voi una volta la cosa particolare era provare gli auricolari True Wireless. Adesso quelli sono lo standard praticamente siamo circondati mentre questi diventano una particolarità. Comunque anche in questo caso materiali davvero molto molto buoni. La parte finale di questi auricolari è realizzata in metallo mentre l'archetto è in una gomma molto flessibile che vi permette di rigirarli e accartocciarli un po' come vi pare. Mettendoli al collo notiamo anche che i due auricolari tra loro sono dotati di magnete e anche abbastanza stabile che ci permette quindi di associare, attaccare tra di loro i due auricolari quando non li utilizziamo. Mentre un'altra cosa che volevo farvi notare è che sull'estremità destra destinata ai comandi troviamo i classici tre tasti per il controllo multimediale quindi per regolare il volume, cambiare canzone e play pausa e poi c'è un altro tasto più in alto con un'icona a forma di cuoricino che devo essere sincero non ho idea di cosa faccia, lo scopriremo al momento della recensione. Vediamo cos'altro c'è nella confezione. Prevedibilmente un po' di manualistica, un cavetto usb-usb-c per la ricarica e un po' di gommini e di alette per fissarli alle orecchie perché essendo auricolari sportivi in questo caso troviamo queste piccole alette, questi piccoli uncini come li volete chiamare, che servono a agganciare al meglio gli auricolari alle orecchie. Dando un'occhiata alla scatola si nota subito qui in alto il logo HiRes Audio, quindi audio ad alta definizione perché questi auricolari, come ci riporta sempre la scatola, supportano i codec ldac che è sicuramente una caratteristica molto apprezzata perché finora credo che quasi soltanto sony, quasi solo gli auricolari di sony, avessero i codec ldac quindi bene vederli anche su altri dispositivi. Ricordo che i codec ldac sono supportati nativamente da android a partire da android 8 e superiori mentre non sono supportati da iphone. Per quanto riguarda il resto la scatola ci informa che questi auricolari hanno certificazione ip55 quindi resistenza sia al sudore agli schizzi che alla polvere che supportano la ricarica rapida 5 minuti di ricarica per 4 ore di riproduzione musicale e che supportano la tecnologia vivo fast pair che sarà immagine una tecnologia proprietaria di vivo esattamente per associarli rapidamente agli smartphone dell'azienda. In ogni caso vedremo come si comportano nella recensione e prima di metterli via vi comunico che questi auricolari hanno un costo di 69 euro. Credo che anche questo come la maggior parte dei prodotti vivo sia disponibile solo da Euronics almeno ufficialmente in Italia poi ciò non toglie che siano disponibili su mille store che vengono prodotti cinesi e quindi a quel punto potete cercarli un po' dove vi pare. Passiamo a questa busta della Royal Mail che al suo interno contiene uno dei modelli di auricolari che volevo provare da più tempo che sono i nuovi Ticpods 2 Pro Plus. Li volevo provare da tantissimo tempo perché di Ticpods era da una vita che non ne provavo anzi praticamente dal primo modello quindi sono contento di vedere come è cresciuta l'azienda e come vanno i nuovi controlli smart di questi auricolari perché questi Ticpods 2 Pro Plus spiccano per una moltitudine di modalità di connessione come ci suggerisce questo manuale che ho qui davanti a me. Lo metto un attimo da parte perché voglio farvi vedere quanto è piccolo e bellissimo il case di questi Ticpods. Davvero minuscolo è probabilmente il case più piccolo che io abbia mai visto ma mi piace davvero davvero tanto. Vedremo poi quanta batteria ha a disposizione perché sinceramente con queste dimensioni così piccole non mi aspetto cifre incredibili. Gli auricolari hanno il formato aperto quindi niente gommini che si inseriscono nel canale uditivo ma la particolarità come dicevo sono le modalità di controllo perché oltre il controllo con le gesture sulle astine classico doppio tap play pausa slide sopra e sotto per controllare il volume e pressione prolungata per richiamare l'assistente vocale ci sono anche altre due modalità di controllo che sono quella tramite gesture con la testa sostanzialmente potete annuire per rispondere a una chiamata o fare di no per rifiutare una chiamata e loro in teoria dovrebbero capire quello che state facendo e agire di conseguenza e poi c'è la possibilità di richiamare l'assistente vocale tramite la voce esattamente come si fa con non so gli airpods o tantissimi altri modelli in questo caso si fa pronunciando la parola heitico che dovrebbe richiamare l'assistente vocale del vostro smartphone. Sono davvero molto molto curioso di provare come vanno. Prendo un attimo in mano la scatola per vedere qualche altra informazione aggiuntiva allora abbiamo supporto ai codec qualcom aptx quindi quelli classici non hd né adaptive né niente del genere batteria con autonomia fino a 20 ore supporto al fast charge e poi qui sotto mi dà qualche informazione in più riguardo a tick motion e tick here che sono le due tecnologie che permettono alle cuffie di riconoscere il movimento della testa e il riconoscimento vocale per richiamare l'assistente. Queste tickpots 2 pro plus le trovate anche su amazon italia al prezzo di 139 e 99 euro 140 euro sicuramente non pochi considerando come sempre la concorrenza del panorama che è sempre più agguerrita però vediamo sicuramente hanno tutte le premesse per essere un dispositivo quantomeno peculiare diverso dagli altri. Li metto via e proseguo con quest'altro pacco che arriva da amazon che come potete vedere purtroppo era già aperto e che contiene al suo interno il nuovo soundcore mini 3 questo è il nuovo speaker portatile di soundcore. Soundcore che ricordiamo è un brand di anchor l'azienda che produce dispositivi audio power bank e tantissima altra roba. Soundcore è il brand audio che negli anni si è fatto riconoscere sempre di più come un brand dall'ottimo rapporto qualità prezzo questo è il nuovo soundcore mini 3 veramente molto molto piccolo più di quanto pensassi davanti troviamo dei controlli non particolarmente visibili ma quantomeno riconoscibili al tatto e sul retro un laccetto per tenerlo comodamente per esempio attaccarlo a uno zaino e uno sportellino che ci dà accesso alla ricarica tramite usb c questo sportellino sul retro mi fa pensare che ci sia un supporto all'impermeabilità e infatti questo speaker è completamente impermeabile certificazione ipx7 quindi lo potete immergere in acqua senza temere e poi dalla scatola apprendo che si possono collegare fino a 100 speaker fino a 100 mini 3 contemporaneamente per avere un effetto stereo o sostanzialmente per dare una festa perché con 100 di queste cose per quanto piccoli sicuramente fanno il loro bel rumore la tecnologia bassa che è la classica tecnologia di anchor per pompare un po i bassi 15 ore di autonomia con una ricarica e soprattutto la possibilità di modificare l'equalizzazione tramite l'app soundcore questa novità che sembra cosa da poco conto secondo me è molto importante perché l'applicazione soundcore che c'è da tempo ma fino a poco tempo fa supportava solo esclusivamente i modelli di fascia elevata dell'azienda il fatto che abbiano inserito anche questo mini 3 che comunque costa 36 euro non è sicuramente uno speaker top di gamma vuol dire che probabilmente anche vuole spingere sul supporto della sua applicazione su tutti i modelli e questo è un gran bene perché c'è l'equalizzatore che non fa mai male all'interno della confezione troviamo poi cavo di ricarica usb usb c è un po' di monolistica che sinceramente anche basta quindi metto via subito e passo al prossimo pacco che è sempre da anchor e che al suo interno contiene le soundcore life q30 le nuove cuffie a cancellazione del rumore di soundcore anche queste cuffie ero curiosissimo di provarle perché voglio vedere cosa sta combinando soundcore quindi anchor con le cuffie a cancellazione del rumore che costano relativamente poco all'interno della scatola troviamo il case semi rigido che sembra davvero di ottima fattura mi piace parecchio all'interno del case le cuffie ovviamente un po' di monolistica jack audio e cavo usb c per la ricarica come sempre vado a sfilare le cuffie da questa custodia davvero particolare la forma di queste custodia come ospita le cuffie padiglione destro abbiamo tasto per attivare o disattivare la cancellazione del rumore tasto di accensione spegnimento usb c per la ricarica padiglione sinistro abbiamo tasto per attivare disattivare la cancellazione attiva del rumore e tasto per accensione spegnimento oltre che connettore usb c per la ricarica mentre padiglione destro troviamo tasti per il controllo multimediale e jack audio inoltre sempre sul padiglione destro due chicche non da poco intanto il chip nfc quindi per associarle rapidamente uno smartphone android usato di nfc vi basta appoggiarcelo sopra e poi troviamo una chicca davvero interessante che è palesemente plagiata da sony ma va bene così ed è la possibilità di attivare rapidamente la modalità trasparenza appoggiando una mano sul padiglione destro per il momento metto via queste soncore life q30 e prima di proseguire vi dico che costano 80 euro su amazon perché per essere cuffie con cancellazione del rumore è un prezzo abbastanza interessante vedremo durante la recensione se effettivamente meritano penultimo pacco viene dalla germania e non vedevo l'ora che arrivasse non vedevo l'ora di spacchettarlo perché qui ci sono due prodotti che attendevo parecchio di provare perché questo pacco me lo manda niente poco di meno che marshall e al suo interno contiene le marshall mayor 4 e lo speaker marshall amberton partiamo dalle cuffie dalle mayor 4 ed eccole qui le nostre cuffie marshall come potete vedere si ripiegano su se stesse purtroppo non c'è un case per portarle in giro ma comunque questo ritiegarsi vi permette di portarle più facilmente in giro ad esempio in uno zaino e come si intuisce la guida a cui sono attaccati i padiglioni permette di spostarli e quindi avvicinare o allontanare i padiglioni per adattarli al meglio alla forma della testa sulla cuffia a destra troviamo il connettore usb c per la ricarica il jack audio e questo piccolo joystick che è il tasto multifunzione di marshall come potete vedere si sposta in tutte le direzioni che ci permette sia di mettere in play pausa che di controllare il volume e in generale controllare la riproduzione vediamo cos'altro c'è nella scatola mi aspetto semplicemente manualistica cavetto usb c bello lungo è il jack audio che come tradizione marshall è a molla e con l'aggancio a l che è sicuramente molto apprezzato prima di metterle via altre due informazioni al volo su queste marshall mayor 4 intanto come si intuisce facilmente sono cuffie on ear e non over ear quindi si poggiano sulle orecchie ma non vanno a circondarle completamente hanno un'autonomia di ben 80 ore davvero tantissimo e poi una cosa particolarmente curiosa secondo me è che supportano la ricarica wireless nel senso che nel padiglione sinistro è integrato il chip per la ricarica senza fili quindi se voi prendete una base di ricarica wireless come ad esempio questo power bank con ricarica wireless di trust se ce le poggiate sopra in questo momento loro sono in carica è una scelta peculiare non so quanto sinceramente sia utile nella vita vera perché con 80 ore di autonomia diciamo che non si ricaricano così spesso e quando le ricaricate sicuramente potete ricaricarle anche con il cavo però finché si parla di funzioni in più ovviamente tutto è benvenuto le marshall mayor 4 costano 150 euro un prezzo che non è in assoluto economico ma che considerando il brand di marshall non è neppure così tanto costoso e considerando anche ovviamente i materiali questa similpelle che comunque è molto ricercata le mettiamo via e passiamo all'altro prodotto di marshall ossia lo speaker emberton credo che questo sia lo speaker più piccolo che marshall abbia mai realizzato o comunque mi sembra di ricordare che si tratti di uno dei più piccoli ve lo faccio vedere subito classico design di marshall con la parte frontale con la griglia e il logo ben visibile qui davanti griglia anche sul retro mentre il resto dello speaker con questa plastica levigata molto piacevole al tatto sulla parte superiore abbiamo ancora una volta il joystick di marshall che controlla la riproduzione volume su volume giù cambio della traccia e play pausa schiacciandolo il tasto per l'accoppiamento bluetooth e questo piccolo indicatore di batteria provo ad accenderlo ma direi proprio che è scarico perché non si accende e non ci sono altri tasti per l'accensione qui sul lato il connettore usb c per la ricarica e a proposito nella confezione ovviamente un po di manualistica come sempre e il connettore usb c bello lungo direi che l'indicatore della batteria ve lo faccio vedere nella recensione completa anche questo marshall amberton costa 150 euro vedremo come suona nella recensione altre due informazioni al volo 20 ore di autonomia e resistenza ai liquidi con certificazione ipx7 concludiamo con l'ultimissimo pacco dove all'interno troviamo due prodotti non sono ancora disponibili in italia che verranno annunciati domani rispetto al giorno in cui sto parlando ossia verranno annunciati mercoledì 2 dicembre verranno annunciati domani io continuo a parlare di domani ma probabilmente voi quando vedrete questo video sarà già passato un po di tempo rispetto al 2 dicembre comunque il 2 dicembre è il giorno di debutto in italia per teufel spero di averlo pronunciato non dico bene ma decentemente perché questo è il nome di questa società tedesca specializzata nella produzione di dispositivi audio si tratta di una società che non è nuova anzi è stata lanciata nel 79 e dal 79 produce dispositivi appunto per la riproduzione sonora tendenzialmente di alta qualità diciamo che il settore dell'alta fedeltà è uno dei punti forti di teufel queste che ho qui in mano sono le sue prime cuffie che arriveranno in italia che si chiamano supreme on anche in questo caso un design pieghevole con i due padiglioni che vengono ripiegati su se stessi per essere trasportati più comodamente non credo proprio che nella scatola ci siano il case per portarle in giro ma vediamo cosa c'è nel pacchetto degli accessori e invece sono stato smentito perché c'è effettivamente una custodia per il trasporto non è rigida è una custodia in tessuto ma è comunque sempre benvenuta e poi ovviamente troviamo il cavo usb c per la ricarica e un lungo jack audio rivestito in tessuto molto belli i cavi rivestiti in tessuto ci piacciono sempre ma li mettiamo da parte e parliamo un po di queste cuffie sul padiglione sinistro troviamo anche in questo caso il chip nfc per associarle rapidamente a dispositivi android dotati di questa tecnologia e sempre sul padiglione sinistro connettore usb c per la ricarica e jack audio sul padiglione destro invece abbiamo anche in questo caso un joystick multifunzione esattamente come quello delle marshall che a questo punto ha un nuovo concorrente in italia dotato di joystick effettivamente devo dire che queste cuffie condividono parecchio con quelle marshall che abbiamo appena visto anche in questo caso form factor con i padiglioni che si ripiegano su se stessi anche in questo caso il joystick per il controllo anche in questo caso finta pelle e tessuto sulla parte qui superiore dell'archetto caso parliamo di cuffie on ear quindi che si appoggiano sulle orecchie e non over ear qualche altra informazione su queste cuffie supportano codec ac e aptx autonomia fino a 30 ore e il prezzo anche in questo caso è di 150 euro tuttavia per chi le acquista nei primi giorni di lancio di toffel in italia ci sarà uno sconto un voucher di 50 euro e quindi le andrete a pagare solo 3 virgolette 100 euro e la recensione arriverà al più presto è un ultimo dettaglio prima di metterle via è disponibile un'applicazione per android e ios che vi permette di interfacciarvi a queste cuffie per andare a modificare l'equalizzatore e quindi andare a personalizzare il suono che esce dai driver da 40 mm le mettiamo via e passiamo all'ultimissimo prodotto di questa carrellata che uno speaker di toffel che si chiama motive go ed eccolo qui il design è veramente molto bello minimale ma mi piace il telaio è realizzato in alluminio e sulla parte superiore troviamo i tasti per il controllo multimediale e non solo oltre vari play pausa regolazione del volume cambio traccia assenzione spegnimento troviamo questo tasto qui che serve per attivare o disattivare la funzione dinamore che è una funzione che dovrebbe garantire una maggiore potenza sonora sostanzialmente qui sulla parte laterale troviamo il pulsante per forzare l'accoppiamento bluetooth è uno sportellino che ci rivela il jack audio e il connettore per la ricarica che purtroppo non è usb c ma il classico spinotto che andava tanto di moda fino a pochi anni fa nella confezione oltre allo speaker motifon troviamo solo il caricatore il caricabatteria niente jack audio che dovrete procurarvi da voi qualche altra informazione su questo motivo prima di metterlo via codec supportati sono ac e aptx l'autonomia è da 16 ore resiste agli schizzi con certificazione ipx 5 e il prezzo è di 250 euro una particolarità che non vi ho detto di teufel è che l'azienda non utilizza intermediari quindi sostanzialmente se acquistate un prodotto di questa società tedesca vi arriverà direttamente spedito dall'azienda questo secondo teufel garantisce un miglior rapporto qualità prezzo perché non dovendo passare per intermediari ovviamente non ci sono tra virgolette delle spese di gestione che vanno per esempio ad amazon o a chi per loro in ogni caso ci sono ben otto settimane per provare un prodotto e se non siete soddisfatti renderlo indietro quindi due mesi di prova per cui se per qualsiasi motivo il motive go o le cuffie supreme on o ancora altri prodotti che arriveranno in italia non dovessero piacervi entro due mesi potete renderli all'azienda e farvi rimborsare i soldi per questo lunghissimo unboxing è davvero tutto come avete visto i prodotti erano davvero tantissimi trovate tutti i link per l'acquisto o maggiori informazioni qui sotto in descrizione se avete dubbi domande perplessità scrivetemelo nei commenti sarò pronto a rispondervi e a farvi sapere la mia non mi rimane che salutarvi io sono giuseppe vi do appuntamento al prossimo video sempre qui su smartworld.it ciao alla prossima